Chiara Genisio, buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per anticipare una passeggiata, una passeggiata di Torino e spiritualità. Chiara Genisio è giornalista e la passeggiata che lei propone è tra lo spirituale, lo storico, l'elemento della natura e non solo. Tutto questo succederà il 15 settembre, sabato 15 settembre e la passeggiata è dedicata ai martiri di Boves. Perché ha scelto questo tema della passeggiata? Nel titolo, nel programma di Torino e spiritualità preferisco di no. 75 anni fa Boves viveva qualcosa di veramente straordinario nella crudeltà ed è anche molto bello che in una passeggiata spirituale si possano ripercorrere quelle anime, quelle persone, quei respiri di vita, quei respiri di storia. E' proprio così. A Boves il 19 settembre del 1943 accade la prima strage nazista nei confronti di civili. E' passato da poco l'8 settembre e Boves è proprio al centro di un passaggio delle truppe che scappavano dalla Francia e passando proprio per Cuneo. C'era una grande caserma e in questo territorio nascono i primi fermenti della nostra resistenza. Vorrei ricordare, mi scusi se l'interrompo, vorrei ricordare a proposito di primi segnali della resistenza. C'è stato proprio poche settimane fa un festival, Festival Frontier, che era dedicato proprio a questa, la frontiera intesa nel senso moderno, ma anche come frontiera di quel passaggio dall'Italia alla Francia in tempo di guerra. Ed è proprio nella borgata Paralup, della provincia di Cuneo, in una piccola valle, a nascere i primi fermenti della resistenza. E questo è molto importante, fa della provincia di Cuneo un anello fondante della storia. E lei come lo racconta tutto questo? Io lo racconto attraverso alcuni protagonisti. Come dicevo, a Boves avviene la prima strage nazista per mano di un comando guidato da Piper. Dove i protagonisti sono due sacerdoti. In quei giorni diciamo che tutte le persone che avevano degli incarichi istituzionali pensano bene di scappare. Mentre gli unici che rimangono a difendere, a rappresentare la popolazione sono proprio questi due sacerdoti. Ed è qui il preferisco di no. C'è nel senso che c'è da parte loro un'assunzione di responsabilità, di voler stare e prendersi in carico quello che era la loro missione, di occuparsi degli altri. E quindi avrebbero potuto scappare, ne avrebbero avuto l'opportunità. Ma scelgono di dire di no e di rimanere lì accanto alle loro persone e addirittura di arrivare a dare la vita per loro. Perché in questa strage, che alla fine della giornata conterrà 24 morti, tra quei 24 morti ci sono anche questi due protagonisti. E allora la storia passa proprio attraverso la loro vicenda, che gli viene chiesto di andare a trattare con i partigiani che avevano rapito due tedeschi. Il paro, che si chiamava Don Bernardi, coinvolge un altro personaggio molto interessante, che è Antonio Vassallo, che era poi la persona più in vista, l'uomo più ricco, una persona di sani principi, non vicino alla chiesa, ma che aveva dato alla città moltissimo. Si era occupato anche, aveva una grande cava, quindi dava lavoro, aveva cercato di aiutare il paese a crescere. E appunto Don Bernardi e Vassallo vanno a trattare, riescono a convincere i partigiani di restituire i due tedeschi che erano stati rapiti, ma questo non basta e la cittadina viene data alle fiamme e loro tenuti ostaggio e alla fine bruciate i viti. E il terzo personaggio di cui raccontiamo è Don Mario, che era il viceparo, un giovane prete di 23 anni, Don Mario Ghibaudo, lo ricordiamo. Avrebbe avuto l'opportunità di scappare e invece dedica tutta la giornata già a partire dall'alba a cercare di portare in salvo le persone e proprio mentre sta benedicendo un uomo che è appena stato ammazzato da un tedesco, viene anche lui trafitto e muore. Allora la passeggiata che si estende attraverso dei luoghi simboli di Boves, fino ad arrivare al luogo dove i tedeschi erano stati presi prigionieri, dove è venuta la trattativa, in questa montagna alla Bisalta, chiamata così perché ha due cime, ripercorriamo la storia e anche in qualche modo il messaggio di dire che ciascuno di noi può fare la differenza. Se queste persone avessero scelto di voltarsi e di andare e di scappare, forse le sorti di questo paese sarebbero state decisamente peggiori. Ma anche di dire che partendo di lì, da questa violenza, che tra l'altro Boves è oggetto della prima strage nazista, ma non dell'unica perché da lì al 1945 per ben tre volte la città viene colpita, ci sono altre vittime e molte case distrutte. Allora, in un posto che poteva diventare un luogo che non dimenticava queste cose, questa violenza, ha saputo negli anni invece trasformare questo odio, questa violenza in pace. Tant'è che Boves è la città che ha dato per prima vita all'università, alla scuola di pace e noi incontreremo lungo questa camminata la persona Enrica Giordano che la dirige, ma è stato fatto anche un passo oltre, perché bisogna ricordare che Piper, che è stato questo nazista, allora era capitano, l'artefice di questa strage, di fatto non ha mai pagato per questo crimine, è riuscito a scampare la giustizia, perché in Germania non è mai stato oggetto del processo, nonostante da parte di Boves fossero state raccolte moltissime testimonianze. Una decina di anni fa un gruppo di bovesani ha deciso di provare a capire se la vicenda di questi due stretti, Don Bernardi e Don Ghibaudo, poteva farli diventare martiri. In effetti tutte le caratteristiche che devono essere per diventare martiri, questi due sacerdoti li avevano vissuti in quel tragico 19 settembre. E tra l'altro è in corso la causa di beatificazione. E proprio così hanno iniziato la causa e proprio per... Una cosa di beatificazione è una cosa molto complessa, che richiede molta documentazione, e nelle varie ricerche hanno trovato dove era seppellito Piper. hanno scoperto che era in questo piccolo cimitero di Schondorf, che è un centro a una trentina di chilometri da Monaco di Baviera, e hanno cercato il contatto con il parroco della comunità, che quando ha ricevuto la notizia, la lettera di richiesta di contatto, ha dichiarato di essere assolutamente ignaro che nel suo cimitero ci fossero le spoglie di Piper. Di lì è iniziato un dialogo che è diventato sempre più profondo, che adesso possiamo veramente chiamare un percorso di pace e di riconciliazione, perché le due comunità sono in contatto, si sono scambiati dei viaggi, è venuta una comunità, è andata la comunità a Boves, e da Boves sono stati a Schondorf. Ci sono delle iniziative comuni, la cosa molto interessante è che non è solo nell'ambito delle due comunità religiose, ma ha coinvolto anche le comunità civili, quindi c'è il sindaco delle due città che si incontrano, è un'esperienza di cammino comune e allora è proprio questo, preferisco di no, di non tacere, di non chiudermi, ma di camminare, di costruire qualcosa di importante. Di fronte a una situazione come quella che viviamo adesso, di muri, di paure, di coltivare l'odio, da questa comunità nasce proprio l'esempio che si può fare il primo passo e si può costruire un mondo migliore. Lungo questo percorso incontreremo anche delle esperienze di arte, perché il Cunese ha delle ricchezze dal punto di vista artistico straordinarie, ci saranno alcune soste in alcuni di un santuario e a Madonna dei Boschi dove avremo la possibilità di scoprire degli affreschi del 1500, insomma, sembrerà di entrare in una piena apoteca, quindi un cammino che è di storia, di pace, di specialità, che guarda anche al passato ma che guarda anche molto al futuro. Tutto questo succederà il 15 settembre. Per chi vuole iscriversi a questa passeggiata lo può fare senza dubbio già fin da adesso collegandosi al sito torinospiritualità.org e all'interno della pagina delle passeggiate spirituali, i sentieri contro mano, troverà l'appuntamento, i diversi appuntamenti, troverà anche l'appuntamento dei martiri di Boves insieme con Chiara Genisio. Però vorrei, Chiara Genisio, ritornare su un aspetto importante. A proposito, proprio del tema preferisco di no, che è il tema di quest'anno di torino spiritualità, lei ha raccontato il dire no di questi due preti a Boves e lei ha detto che loro hanno detto no assumendosi la responsabilità. Ecco, è un aspetto su cui io vorrei ritornare perché oggi come oggi penso che dire di no voglia dire esattamente spesse volte il contrario, dico di no, però la responsabilità non è mia, dico di no perché la responsabilità è di qualcun altro. Io credo che dire di no possa essere inteso anche come l'hanno inteso di questi due sacerdoti e dire io non ci sto a certe situazioni in cui annullano che cos'è l'essere umano, annullano quello che è il nostro essere persone. dico di no alla violenza, dico di no a scappare dalla mia responsabilità, riprendo il mio essere persona, riprendo il mio umano e quindi dire di no è esattamente dire di sì a ciò che siamo e un rifiutare quello che ci viene dato come condizionamento esterno e riprenderci la nostra vita, anche se nel caso di esempio di queste due persone, ma anche del laico Antonio Vassallo ha significato perderla la vita. Cercuno di noi si augura sempre che dire di no non significhi arrivare a questi estremi, anche perché in quel caso il loro dire di no ha poi fatto nascere qualcosa di importante perché è da questo loro sacrificio che il paese poi ha potuto crescere e ritrovare una sua identità. Noi ci auguriamo di non dover mai essere oggetto come loro di un sacrificio così estremo, però il nostro dire di no a certe situazioni di ingiustizia possono cambiare la storia, io su questo sono convinta che ciascuno di noi riprendendo quello che veramente l'essere umano, la nostra dignità di persone può cambiare le situazioni che ha intorno. Chiara Genesio, lo chiedo a lei in qualità di giornalista, in che modo oggi il giornalismo lo abbiamo affrontato diverse volte, lo affronteremo nel corso delle prossime conversazioni a proposito sotto un aspetto filosofico, visto il Festival Filosofia di Modena, quest'anno il tema è verità, in che modo, e lo chiedo a lei in qualità di giornalista, in che modo il giornalismo oggi percorre la parola verità e in sostanza la parola verità vuole dire preferisco di no. Io credo che ci siano, dentro il giornalismo ci sono tanti giornalisti e purtroppo io su questo sono abbastanza negativa, nel senso che mentre sono convinta che sia sempre più importante il ruolo del giornalista oggi, forse oggi più di ieri perché abbiamo veramente tante opportunità, siamo sommersi dalle notizie e quindi più che mai c'è bisogno di qualcuno che per professione sappia interpretarle, sappia verificarle e sappia offrire una chiave di lettura. Temo che oggi una delle crisi che stiamo attraversando è che troppo pochi di noi hanno ancora voglia di spendersi nella ricerca vera della verità, che è fondamentale per qualsiasi democrazia, convivenza civile, è uno degli aspetti da cui non si può prescindere, ma bisogna anche dire che il contesto in cui viviamo anche dal punto di vista dei mezzi con cui fare questo mestiere stanno cambiando molto velocemente e siamo un po' tutti anche alla ricerca di trovare nuove formule che però non tradiscano questa verità di cui lei diceva, è uno degli elementi indispensabili del nostro mestiere. Io ho sempre fiducia perché come dicevo prima le scelte individuali poi cambiano le situazioni, forse ci sarebbe bisogno di un po' più coraggio da parte di tutti noi, di fare anche più squadra per un lavoro che deve tornare ad essere un pilastro del mondo occidentale, non parlo solo dell'Italia. Certamente però Chiara Genizio, riprendendo il tema delle cambinate e insieme con l'elemento del giornalismo che faceva riferimento, si dice che il giornalismo oggi ha perso un po' una cosa, ha perso la voglia di sporcarsi le scarpe, questo che cosa vuol dire? Vuol dire alzarsi dalla sedia e andare sul terreno e sentire l'aria che tira e da lì cominciare, ciò non vuol dire, dicendo questo, di ritornare a un giornalismo d'antan, ma vuol dire che il giornalismo, il giornalista deve sentire la notizia, deve comprendere, deve entrare dentro per raccontarla. Questo è verissimo, si è diventati un po' troppi giornalisti da tastiera, da navigatori del virtuale e poco del reale, su questo è certamente vero che bisogna tornare a stare con le persone, a vivere anche l'esperienza, cioè il giornalista è anche uno che deve toccare con mano quello di cui racconta, io dico sempre che un conto è essere presenti quando c'è un fatto e un conto magari sentirselo solo raccontare o addirittura leggerlo e non vederlo, perché la notizia è fatta anche di odori, di sensazioni, di sguardi, di percezioni e quindi ci devi stare dentro le cose per poter raccontare, lo vediamo quando poi ci sono i grandi inviati, le persone che vanno a seguire le vicende dal vivo, la differenza che fa d'averla vista e raccontata solo attraverso la visione virtuale che ci permette i mezzi di comunicazione che oggi abbiamo. E Chiara Genizia su quali giornali scrive? Io dirigo un'agenzia regionale di informazione collegata ai settimanali diocesani del Piemonte che sono una realtà molto forte, quindi ce ne sono 17, diciamo che è l'esperienza editoriale più significativa che esiste in Piemonte e poi collaboro con il quotidiano Avvenire e con alcune riviste come Vita Pastorale, Credere. Chiara Genizia ospite a Torino Spiritualità per la camminata del 15 di settembre dedicata a Boves, ai martiri di Boves percorrendo il loro modo straordinario di dire di no. Ricordiamo ancora per iscriversi alla passeggiata www.torinospeditoritalità.org però prima di salutarci Chiara Genizio, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Un libro complicato se posso dirle, sto leggendo La macchina imperfetta di Guido Melis, questo storico che con un'infinità di documentazione cerca di dimostrare che cosa è stato il fascismo per il nostro paese, partendo dal fatto che, da una teoria che adesso vedremo se riuscirà a spiegare all'interno perché sono ancora le prime pagine, che il fascismo non è stato così fino in fondo una dittatura, quindi sono molto curiosa di vedere come riuscirà a spiegare questa sua affermazione, questo storico. Tra l'altro Guido Melis, se non ricordo male, ha vinto il premio per il saggio proprio, il premio internazionale, il premio letterario Viareggio Repaci, proprio per questo libro La macchina imperfetta, edizione Il Mulino. Intanto noi ringraziamo Chiara Genizio del tempo che ci ha dedicato, grazie ancora Chiara Genizio, buona giornata. Buon prosegumento.